questo nuovo video allora oggi un video un po particolare non troppo perché naturalmente le pulizie le facciamo tutti ma oggi ho fatto cenerentola tutto il giorno in pratica perché dovevo mettere a posto veramente casa urgentemente infatti mi vedete senza trucco con l'occhiale con l'abbigliamento molto ma molto da lavoro diciamo così e quindi ho registrato un video mentre pulisco a fondo la mia cucina naturalmente con una musichetta di sottofasso vedete che io indosso sempre le cuffie quando faccio le cose in casa perché mi dà compagnia e mi fa stare bene quindi vi lascio a questo video sperando che vi possa piacere questa tipologia di video magari fatemelo sapere qui giù nei commenti vi invito ad iscrivervi al canale cliccando anche la campanellina e seguitemi anche su instagram noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao